Ben trovati, ben trovati amici appassionati di motori e di auto. Ben trovato a Carmelo Cultrera, Italo Italy, come stai Carmelo? Bene, grazie. Ti vedo in forma? Beh, abbastanza in forma, sì. Un weekend importante quello di ieri, non soltanto a livello internazionale ma anche a livello siciliano. Sicuramente. E lo scopriamo subito perché con noi c'è in studio Camillo Centamore, che ringraziamo, pilota che ieri ha vinto in gara a Favara il circuito della Concordia nella Formula Junior, lo ricordiamo, e quindi con Rent for Race di Giovanni Grasso, ecco, e lui fa parte anche di questo, diciamo, di questa scuderia che abbiamo chiamato, che si chiama Turi 49 Motorsport. Benvenuto. Grazie. Camillo, benvenuto. Subito la domanda di Rito, d'apertura per la presentazione. Quando cominci a mettere in moto, Camillo, cioè quando è che stai davanti ad un volante, quando cominci a girare? Ebbè, quando ho iniziato a girare da giovanissimo. Io provengo dai kart, il mio primo approccio con i kart è stato all'età di 4 anni, papà mi portò questo kart in negozio, abbiamo la possibilità di avere uno spazio fuori, mi portò questo primo kart, iniziai a prendere confidenza un attimino con il mezzo e poi pian piano da lì è iniziata la mia carriera con i kart all'età di 10 anni, i vari campionati regionali, italiani, interregionali, italiani a squadre, ho fatto anche delle gare a livello nazionale importanti come il trofeo Margutti, il torneo delle industrie, diciamo che ho girato un po' tutta l'Italia e poi all'età di 16 anni ho avuto per i meriti sportivi raggiunti ho avuto la possibilità di prendere la licenza per poter correre con una vera auto da corsa in pista. Emozioni pure. Eh sì, già lì cambiava un po' tutto e quindi abbiamo acquistato una formula junior e abbiamo iniziato un percorso insieme su tutti gli autotromi italiani, Monza, Varano, Misano. Intanto la nostra regia, in scrittura di regia, ne approfittiamo per ringraziare la Lusi Gullotta, la collega Lusi Gullotta, stiamo vedendo delle immagini, delle foto che insomma solo tu puoi descriverci, cosa stiamo vedendo in questo momento? Questa è una delle tante gare di kart, giovanissimo qui, ero molto giovane, ero piccolino, accanto a te? Sì, accanto a me è mio padre. Tuo padre che da poco scomparso, che insomma salutiamo e che è stato sicuramente determinante. L'artificio è determinante. Di tutto, ecco. Questa è l'immagine di ieri, il podio di ieri. Il podio di ieri, il podio di ieri perché ieri hai vinto appunto sul circuito della Concordia appunto a Favara in gara 1 e in gara 2. E in gara 2, sì. Sei partito anche nella seconda posizione e sei riuscito a rimontare. Ecco, tutto questo grazie a papà, grazie alla grande passione. Ma tu hai mai sognato veramente, poi sentiamo Carmelo, di poter fare il pilota a tempo pieno? Allora ti dico la verità, da ragazzino, da bambino fino all'età di 13-14 anni sì, perché c'erano le possibilità, avevamo degli ottimi risultati nonostante non avevamo grandi team che ci supportavano perché il mio team è stato sempre io, mio padre, il kart, il motore, una cassettina degli attrezzi. Siamo andati nei campionati italiani e ci siamo sempre fatti rispettare un po' in tutta Italia e questo ci ha dato molta soddisfazione, quindi credevamo di avere un domani una possibilità. Poi ci siamo accorti che man mano che si andava avanti la possibilità magari era data da chi aveva uno sponsor maggiore e chi aveva più disponibilità economica per poter andare avanti. Quindi più capacità economiche hai davanti, cioè hai con te, più possibilità hai di fare strada. Poi mio padre avevamo dei contatti con qualche azienda che produceva telai, però dovevo andare da loro, non dovevo più continuare la scuola in quel caso perché mi dovevo impegnare a tempo pieno, però mio padre non ha voluto, uno perché ancora avevo 13 anni, due perché non sappiamo come finirà, quindi è anche corretto che tu faccia la tua sia carriera sportiva che comunque la scuola, devi studiare, devi farti un percorso diciamo che poi è stato quello che ho fatto da grande, l'università eccetera eccetera. Quindi hai mantenuto in equilibrio la professione tua, oltre che appunto la grande passione per l'automobilismo. Sì, l'automobilismo ma ho continuato diciamo anche a studiare. Intanto stanno scoprendo le immagini, ne abbiamo vista una in particolare che tra poco ci riproporrà, l'usigullota c'è un abbraccio con papà tuo, ecco che credo che quella è stata un'immagine particolare. L'ultima gara che papà è venuto in pista, quindi novembre, la gara dove io ho vinto il campionato Rent4Race, proprio questa qui, è stata l'ultima sua gara a novembre. Carmelo, mentre vediamo queste immagini che sono veramente emozionanti. Molto emozionanti. Allora, quanto secondo te la passione in un bambino fa sì che da grande possa proseguire questo meraviglioso sport? E secondo me alla base c'è la passione, tu cosa ne pensi? Guarda, io penso che la passione è la prima cosa, bisogna coltivarla da piccoli. Se da piccoli si ha quella passione di star dietro al mezzo, di capirlo, di toccarlo con mano, e allora secondo me la possibilità c'è di andare avanti e di fare sacrifici per andare avanti, perché non è facile. Questo te lo posso dire con certezza perché io, tra virgolette, faccio tutto io. e quindi io mi sistemo la macchina, io me la smonto, io me la rimonto, cioè io faccio tutto, perché da bambino ho fatto questo con mio padre. Quindi per questo ti dico, la passione è la prima arma per andare avanti, perché poi ci vuole tanta, 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 tanta dedizione. Bisogna sempre impegnarsi, sempre cercare di volere di più, devi essere sempre più meticoloso. È importante, la passione è la prima cosa. E partire dai kart chiaramente è una base importantissima. Il kart è la forma, lo vediamo oggi con tanti piloti che sono in Formula 1, che sono lì, quindi provengono da lì, è la scuola. La base è quella. Aggiungo che alcuni piloti arrivano in Formula 1 perché hanno degli sponsor. Vabbè, è chiaro. Con grandi capacità. Magari non hanno grandi doti di piloti per stare in Formula 1, però ci sono, ci sono stati, abbiamo degli esempi innumerevoli che riguardano la Formula 1 degli ultimi vent'anni, da quando il business si è impossessato della Formula 1 in assoluto. Come mai ti sei innamorato di un'auto storica? Ma guarda, io... Perché per un giovane, diciamo, normalmente vorrebbe magari delle macchine diverse. Ricordiamo qual è l'auto storica, eh? Sì, la Formula Junior. La Formula Junior, esatto. Che ha fatto storica. La mia è una Corsini, sì. Addirittura. Sì, ma guarda, da piccoli si guardava sempre la Formula 1. Com'è la Formula 1? Ruote scoperte, testa fuori. E quindi già vedere una mini, una Formula Junior, che è una mini Formula 1 sembrerebbe da ragazzini. Dice, ma è bella entrare là dentro, stare... E allora nasce poi una passione, dove tu... È difficile scendere da lì. Io sono salito su altre macchine. Sono salito sul 700, l'ho provato, che sarebbe la 500, no? L'ho provata, però non mi dava le stesse emozioni che mi dà la Formula. Cioè, io là dentro, forse è l'aria che mi arriva sul casco e i movimenti... È diverso. Cioè, le sensazioni che hai su una Junior è diversa rispetto a una ruota coperta. Mi piacerebbe salire su uno sport, su uno sella, però lì si parla già di costi diversi, di impostazioni diverse, eccetera, eccetera. Quindi bisogna un attimino... Fare il passo... Giusto. Per quel che ti consente la gamba, eh? Come si dice in gergo. Sì. E qui rientra sempre la saggezza di chi ti ha consigliato. Sì, sì, sì. Certo, certo. Assolutamente. Ma anche perché è una macchina che si riesce a gestire con bassi costi, tra virgolette, rispetto a quello che c'è in giro. Quindi, avendo adesso la possibilità, con Giovanni Grasso, che è l'organizzatore di questo campionato regionale, di poter accedere a queste gare con dei costi relativamente bassi, questo già è un vantaggio. Stanno scoprendo anche le immagini del titolo che hai vinto l'anno scorso, il titolo regionale della Formula Junior. E a proposito di Giovanni, del team Rent for Race, ti chiedo, lui ti tenta, no? Nel senso, ti invita a guardare oltre la Sicilia, a ritornare sul territorio nazionale. Giovanni me l'ha sempre detto, cioè vuole che io ritorni su a correre nel campionato italiano della Formula Junior. Guarda, fosse per me, io già ho la valigia in macchina, e partirei subito. Ma bisogna che ci sia un supporto per quanto riguarda lo sponsor, bisogna coinciliare tante e tante cose. Posso riuscirci, ma ho bisogno di un supporto economico per poter andare a svolgere le gare su. Questo lui lo sa, perché non dipende solo da me. Forse per me, ripeto, la valigia è già in macchina. Tu sei già pronto, evidentemente, no? Prontissimo. Però, dalle nostre parti, insomma, c'è sempre questa difficoltà anche a reperire, non soltanto lo sponsor, ma a chi crede, non in te, in Camillo Centamore, ma in generale nel mondo dello sport, dell'automobilismo, non sanno quali benefici possano venire. Sì, perché magari c'è poca informazione, non ci si informa tanto. C'è una comunicazione strana, eh? Certo, c'è una comunicazione strana. Si comunica poco e male nell'automobilismo. E come se quando parli di automobilismo ci fosse soltanto, faccio un esempio così banale, a Catania e Etna, per dire, le nostre parti e la Formula 1. E il mondo dell'automobilismo è finito lì. È finito, sì. O la cronoscala da Giarra e Milano. Bravo. Ecco. Quindi, questa è la situazione. Invece no, c'è un mondo, servirebbe più informazione, più comunicazione, evidentemente. Sicuramente sì. Perché è tutto un indotto, tra l'altro un indotto che porterebbe veramente dei benefici economici su tutto il territorio. Ma sicuramente. Ma non lo riescono a capire. Ora so che ci saranno delle cose, la targa Florio, anche se è stata quella, diciamo, domenica scorsa, Rally, Rally, ci ha portato un indotto bestiale, che è incredibile, proprio, oltre 200 iscritti. Perché servono sempre più figure manageriali dalle nostre parti, non si può più improvvisare, non si può più affidare a quello che ha magari tanta passione, che per tradizione è stato per tanti anni in quel luogo. Bisogna assolutamente, assolutamente affidare ai manager. Perché ognuno deve avere le proprie competenze. Certo. Di questo parliamo. Certo. Perché purtroppo poi quando andiamo al nord o al centro Italia, ebbè qui organizzano in maniera diversa, ma perché sono diversi da noi. Tra noi poi abbiamo anche questa mancanza di sinergia, di collaborazione, e tutto questo poi si ritorce, che tu fai i bagagli e vai fuori, insegna l'opportunità economica, evidentemente. Torniamo a Camillo. Camillo, ieri hai gareggiato, ieri in pista, per la prima volta senza papà, che ti guardavo, che stava in box. Sì. Allora, sensazioni ed emozioni forti, immagino. Abbastanza. È, abbastanza. Tra l'altro questa, credo che sia scontato chiedertelo, questa vittoria sul circuito Concordia è dedicata a lui. Certo, certo. Inevitabilmente. Hai parlato con mamma, subito dopo la gara, l'hai chiamata? Sì. Ebbè, immaginiamo la tua emozione, che sarà stato un momento particolarmente emotivo per Camillo, che chiaramente ti dà anche la forza, evidentemente. Eh? Sì. Lo possiamo dire? Sì, questo sì. Ti dà la forza di continuare nel nome e nel ricordo, e negli insegnamenti, mi permetto di dire, di papà. Sì, sì, sicuramente sì, certo. Gli insegnamenti, il ricordo, comunque c'è sempre, resta sempre. Camillo tranquillo, eh? Perché tutto live all'interno di un sogno chiamato automobilismo sportivo. Ed è proprio questo, l'emozione. Il sogno è un'emozione. Un'emozione che si cerca di realizzare. Tu l'hai realizzata e hai avuto la fortuna di avere accanto tuo padre. C'è magari chi si deve scontrare col padre per realizzare il sogno. Quindi sono contento che devi essere veramente felice e ci hai fatto emozionare anche a noi. Te lo dico, ora piangiamo tutti, ecco, siamo tutti più tranquilli. Ti facciamo compagni. Mio padre aveva la passione per le corse, per le auto da corsa, correva pure lui. Lo so perché lo conosco da tantissimi. Mio nonno non voleva che lui correva con le auto. Infatti lui è iniziato a correre quando non c'era più mio nonno. Addirittura. Sì, 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 non voleva assolutamente che lui, infatti, questo lui me lo diceva sempre. Poi, giustamente lui ha corso, ha fatto la sua carriera, poi sono arrivato io, che sono il terzo figlio, perché ho due sorelle più grandi. Quindi lui non ha perso la speranza, è arrivato fino alla fine. Che le donne no, però lo ho finalmente. E ci aspettiamo, vediamo se c'è. E allora poi sono arrivato io, allora da lì è iniziato un percorso che abbiamo fatto insieme. E poi lui ha smesso di correre lui per permettere di far correre me. Ma infatti Centamore è un cognome storico, sia a livello commerciale, ma anche sportivo. Quindi io, che sono un po' vecchietto, con fronte a voi, ricordo con piacere e per sicuramente sport di altri tempi, come commercianti di altri tempi. Sì, 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 sì. Camillo Centamore si divide tra pista e cronoscalate. Domanda classica, prevedisci la pista o la cronoscalata? Se dovessi scegliere. Guarda, come ti dicevo prima, io sono nato in pista. Per me la pista è diversa, è un'altra cosa. Sono due specialità completamente diverse. In pista tu hai tutto il tempo che vuoi per riuscire a sistemarti una curva, una traiettoria. Tutto quello che tu hai in pista, in cronoscalata, dimenticalo. Se in cronoscalata sbagli una curva, se ne parla il prossimo anno. Se in cronoscalata hai un approccio diverso, ormai sei passato. Non c'è niente da fare. Quindi i rischi sono completamente diversi. In pista ti puoi spingere di più. In cronoscalata vedi i muri, devi passarci vicino. Se vuoi fare il tempo, se vuoi. Quindi diciamo che è una specialità per me nuova, perché la faccio da 3-4 anni, la cronoscalata. Eppure hai vinto l'ultima Catania Etna dell'anno scorso. La Giarrre Milo. Un secondo posto importante a Sortino. A Sortino e la Valdanapo. La Valdanapo Sortino. Altra gara storica. La mia gara di casa, tra le altre. Quindi per me è una mia gara di casa. E lì, sì a Sortino abbiamo fatto una gara sensazionale l'anno scorso, con un tempo di 3-49. Quindi una scheggia, diciamo, macchine molto più performanti erano dietro. Quindi questa è stata una grande soddisfazione. Però i rischi ci sono stati. Quest'anno che dovevamo scendere ancora di più il tempo, non ci siamo riusciti. Perché il sabato pomeriggio, sempre con mio padre, facendogli vedere il camera car, perché già avevamo un ottimo tempo. Quindi gli faccio vedere il camera car. Gli ho fatto vedere il camera car a casa e lui, ma non so se in quel momento ha avuto forse paura. Non me lo so spiegare. Però mi diceva, no questa macchina si muove troppo. No, non mi piace. No, fai questo, fai quello e fai l'altro. Cioè in pratica io poi la domenica non sono più riuscito a guidare quella macchina come volevo. Quindi lui secondo me lì, gli è scattata la molla di protezione. Quindi dice, tu stai rischiando troppo. E allora dice, fai questo e mi ha dato più sicurezza, però non avevo più scorrevolezza in macchina. E quindi di conseguenza il tempo è salito e non ho chiuso come volevo. Anche questa però è esperienza. Sì, 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 sicuramente sì, però vedi, questo per dirti la differenza tra la crono scalata e la pista. La pista invece tu ti fai la tua prova, torni, ritorni al setup di prima e riparti. Questo invece no, è andato ormai. Quindi se io devo dire cosa preferisco, io preferisco la pista. Anche perché la competizione è diversa, c'hai le altre macchine accanto. Studi il tuo avversario, dove lo puoi superare, dove non lo puoi superare. Tre attori inverse, c'è tanto. È un altro mondo potremmo dire, rispetto alla crono scalata. Sì, sì, sono due cose completamente diverse. Carmelo. Bene, qual è il progetto prossimo-futuro? Il progetto sarebbe quello di andare su, come ti dicevo prima, di fare qualche gara di nazionale. Ma puoi anche cominciare a fare qualche toccata e fuga, no? Sì, questo vorrei farlo, fare magari una gara, due gare, vedere un attimino e mezzo agli altri cosa succede. Perché qui sappiamo, bene o male abbiamo dei riferimenti. Ma anche perché mi insegni che purtroppo, se non si ci affaccia, non si può neanche ottenere. Sicuramente sì, certo. Il solito discorso che si morde la cosa. Certo, certo, quello è normale. E allora, siamo quasi alla fine di questa chiacchierata. Tu non sei più giovanissimo, sei giovane o non sei giovanissimo, ma in camera tua quali poster avevi quando eri ragazzino di piloti conosciuti? Guarda, per me il pilota, il numero uno in assoluto è Senna. Ayrton Senna. Senna per me è stato il numero uno. Ma sai perché? Anche perché ho dei ricordi. Quando lui iniziò a correre anche con la John Player Special che sponsorizzava, mio papà mi diceva sempre... La Lotus, se sono sbagli. Lotus, sì, sì. Mio papà mi diceva sempre, guarda questo ragazzo come cammina forte, guardalo, guarda le traiettorie che fa. Guarda, quando ancora Senna non era, era Senna, era un pilota comune. Mi diceva sempre, guardalo, va forte, guardalo, va forte. Io ero sempre lì che mi guardavo, sempre Senna, sempre e continuamente. Quindi sei cresciuto nel nome del grande Ayrton Senna. E tra le altre cose, il caso vuole, c'è diversi casi, uno tra tutti, la prima gara che io feci fuori dalla Sicilia, con il kart all'epoca con la 60, è stata a Monsampolo-Ascoli-Piceno. E fu quel primo maggio dove Senna perse la scena. Io in questo ho un aneddoto e speriamo, magari con la nuova stagione, di poter avere, diciamo, i collegamenti anche con l'esterno. E perché ho un amico che si chiama Roberto Giugni, che correva nei kart, campione anche lui, ed è correva insieme a Senna. Erano i due che, e devo dirti che quando mi racconta certe cose, perché, insomma, sono, diciamo, fa parte di un sogno questo discorso, storie, eccetera, eccetera. Credetemi, a me vengono i brividi, perché sono aneddoti, chiaramente, che solo chi li ha vissuti in prima persona può esternare o raccontare, non esistono nei libri. Tu considera che io avevo finito la gara, avevo vinto quella gara per la prima volta, uscendo da lì e arriva ai box, era morto Senna. Sono delle cose, certo. Vicini, che era a Monsampolo-Ascoli-Piceno. Ti si è raggiolato il sangue, come si dice in gergo. In pratica sì, mi è rimasto. E a proposito di grandi, ricordiamo che in questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Gil Vilneb, con la Ferrari, vinse poco, ma entrò nel cuore di tutti, per il suo modo di guidare. Sicuramente. Quando dici, in pista diventi protagonista per quello che fai, per quello che riesci a fare, a dare, per le emozioni che riesci a trasmettere più che per i titoli vinti, evidentemente. Tanti piloti sono stati in campione del mondo, ma non se ne ricorda più nessuno. Campione del mondo. Frenava con il piede sinistro per poter... Sì, vabbè, quello era un'altra Formula 1. Quello è diventato uno stile che comunque... Ora sì, ma in tempi, voglio dire, lui uscì questa cosa in Formula 1. Sì, sì, straordinario. Infatti. E allora, ci sentiamo presto, nel senso in bocca al lupo. Grazie, grazie. Va bene. Speriamo che qualcuno, anche attraverso un sogno chiamato l'automobilismo sportivo, storia, possa in qualche modo avvicinarsi anche alle ambizioni. Perché no? E ai progetti di Carmelo Centamore. E insomma, noi siamo qui, ti aspettiamo presto. Grazie. In bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie Carmelo Cultrera. Grazie a te. Ci rivediamo settimana prossima. E un saluto particolare al nostro Giovanni Grasso. Sicuramente. Grazie. Ciao Giovanni. Grazie del grande appopo. Formula Junior regionale, non soltanto, capo del team Rent4Rays. Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi. Finisce qui anche sala stampa in questo appuntamento che vi ha proposto non soltanto l'automobilismo, ma tanti sport con tanti spunti e tanti ospiti. Grazie a tutti.